...27, si chiama Mattia e ci porta a Tony Stark da Capitano America Civil War. ...27, si chiama Mattia e ci porta a Tony Stark , dov'è i camminare P Sabinare ? ... ha detto que c'è una camera si chiama Mattia a Tony Stark da Batman . ... stoppito la partita , non vesta a te a te a te , ma non vedi a te a te . ... va a te a te a te , ma ti va a te a te . ... non ne va a te , ma non vede a te . ... avuta la scuola , non vuistare il momento ne vede a me. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non cambia il fatto che non siano mai arrivati all'aeroporto, né quello che ho fatto io per evitare di lavorare in lutto, ma certo 611 milioni di dollari per il mio esperimento terapeutico. Nessuno in grado di ragionare l'avrebbe finanziato. Qual è la dichiarazione ufficiale di intenti di questa università? Regolare, disseminare e preservare la conoscenza. E lavorare con gli altri perché venga applicata le grandi sfide del mondo. Sì, beh, voi siete gli altri. E per quanto segrete, le sfide che affronterete saranno le più grandi mesi. Per di più, siete albergo. Certo, scusate, volevo dire, eravate. Da questo momento ogni studente è parimenti beneficiario dell'inaugurale grossa di studio September Foundation. In poche parole, tutti i vostri progetti sono autorizzati e finanziati. Nessuna condizione, nessuna tassa, sono rimpostate in futuro. A partire da ora. Per cui scatenate le idee! Un'altra cosa!